Ciao ragazzi sono Lorenzo Colò e questo è il mio primo video del canale per oggi sarà solo un video di presentazione dove spiegherò che giochi tratterò sul canale e basta, incominciamo 18 anni, vivo a Torino e frequento la prima superiore dove studio grafica che mi insegnano a montare i video e a modificare foto con Photoshop i giochi che tratterò sul canale saranno GTA che sarà quello principale appena avrò comprato la scheda di acquisizione per registrare lo schermo del televisore poi farò Minecraft sul computer che quello là Minecraft lo porterò presto sul canale tanto basta scegliere uno fra i tanti programmi per registrare lo schermo del computer gratis e bomb poi farò tanto cazzaggio su GTA e anche fra la gente in giro farò degli scherzi magari insieme a qualche mio amico e niente vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi so che questo video è stato breve ma era solo un video presentazione a presto arriverà un altro video sul canale è bella ciao iscriviti al canale iscriviti al canale